Atterraggio d'emergenza all'aeroporto Marco Polo di Venezia a causa di un malore che ha colpito il comandante del volo EasyJet 5461 partito da Londra e diretto a Creta. Mentre era in viaggio, il comandante è stato colto da un malore improvviso e ha perso i sensi. Il controllo del velivolo è stato preso immediatamente dal copilota che ha anche attivato la procedura d'emergenza. L'atterraggio si è svolto senza problemi e il comandante è stato subito soccorso. Ora sembra essersi stabilizzato. Dall'aereo sono stati fatti scendere tutti i passeggeri che poi sono stati seguiti dalla compagnia aerea nella prosecuzione del viaggio per raggiungere Creta.